Il ritorno di Samantha Cristoforetti nello spazio, l'astronauta italiana è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il servizio è di Andrea Bettini e Augusto Piccioni. Un lampo e una scia di fuoco nel cielo di Cape Canaveral, lancio perfettamente riuscito. Samantha Cristoforetti e tre astronauti della NASA sono in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Nel 2014 partì da Baikonur, stavolta sperimenta il copione consolidato della compagnia privata SpaceX di Elon Musk. Gli astronauti che indossano veniristiche tute spaziali, qualche istante per salutare amici e parenti, poi via verso la rampa di lancio e la navetta Dragon posizionata in cima al razzo Falcon 9. Si parte per lo spazio. Il primo stadio del lanciatore torna sulla Terra per essere riutilizzato. Arriveranno a destinazione in 17 ore. In Italia saranno le 2.15 della prossima notte. Samantha Cristoforetti trascorrerà cinque mesi nello spazio, con la stessa emozione della prima missione, ma stavolta anche con la consapevolezza di una veterana. È fantastico, abbiamo visto Samantha che va in orbite adesso, è veramente incredibile. Anche infatti il suo compleanno era ieri, allora oggi va nello spazio. Questo è un bel regalo del compleanno per Samantha. Ora, quando la ceramica diventa un'opera d'arte, tradizione e creatività tra i vicoli di Vietri sul mare. L'inviata Alessandra Barone. 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 L'inviata Alessandra Barone.